Parliamone con Cristiano Militello, il famoso inviato di Strici alla Notizia e non solo. E parliamo, caro Cristiano, di un tema molto serio. Non stordirti. Leggo, eh. C'è la tua vita in ballo, pensa alla vita, guida con la testa. Questo è lo slogan della manifestazione di campagna per la sicurezza stradale organizzato dall'ACI Automobile Club di Pescara insieme alla Polizia Municipale con il supporto del Comune di Pescara della Regione Abruzzo. Discoteca Quattrovele di Pescara, una mattinata a Cristiano in cui sembrava davvero una discoteca con musica, balli, sfrenati anche, però poi a un certo punto c'è stata la rottura. Cioè dal divertimento si è passati alla sensibilizzazione a questa campagna per la sicurezza stradale con testimonianze, con contributi video e anche con il tuo contributo. Chiediamo a te, perché Cristiano Militello è stato scelto anche dal Ministero dei Trasporti in tempi non sospetti per essere testimonial? Ma diciamo, questo è un tema che io ho sempre avuto a cuore per motivi personali. Quindi da qui nasce l'impegno. L'impegno è poi spalmato in tante manifestazioni similari a queste, ma che non hanno l'architettura di questo format che io trovo assolutamente vincente e incisivo. perché, come nel tuo preambolo ricordavi, qui noi, anche agendo un po' d'astuzia, quasi a tradimento con i giovani, prima li portiamo nel loro ambiente, in una discoteca, li facciamo ballare, quindi figuratevi per delle classi che anziché fare lezioni un giorno sono messe sul puma, dove andiamo? In discoteca, ma con la scuola, ma sì, ma si balla, sì, è gratis, sì, ma la fregatura dov'è? Beh, la fregatura non c'è. In realtà la mattina, da divertente, diventa anche impegnativa, è anche pesante emotivamente parlando, perché questo è un format assolutamente rivoluzionario che non ha uguali per quanto riguarda la sensibilizzazione su certi temi, perché parla la lingua dei ragazzi, perché arriva direttamente alla testa con l'ausilio di filmati di un certo tenore, ma soprattutto delle testimonianze da parte di chi è sulla strada giorno e soprattutto notte. Le persone che non sono solo quelle che ci fanno la multa, ma sono quelle che ci vengono a soccorrere, a raccogliere o spesso, ahimè, e ai loro vanno anche a casa dei congiunti per dire che appunto magari un loro parente è ferito o morto. Sentendolo dalla loro vera voce, vedendo filmati che hanno come protagonisti i loro coetanei, ho visto tanti ragazzi ammutolire, tante persone anche piangere, giustamente, io per primo, e tante persone, quindi abbiamo ragione di credere, riflettere.